Musica Ben trovati con le breaking news del pomeriggio in primo piano la giornata del ricordo che appunto ricorda le vittime delle foibe nell'Italia, nella Venezia Giulia nel dopoguerra. Le celebrazioni sono iniziate a Rondine dove è stato ripercorso l'esempio del questore di fiume Giovanni Palatucci, un giusto tra le nazioni, a seguire la corona deposta al monumento che ricorda i martiri delle foibe ad Arezzo, infine la cerimonia in prefettura dove è stata anche ricordata la figura di un caduto di Castiglione Fiorentino, la presenza dei suoi discendenti. Da ieri sera passiamo alla cronaca, i domiciliari, la guardia giurata che lo scorso 25 gennaio sparò un colpo di pistola di ordinanza il cognato dopo una lite in un condominio di via. Benvenuti ad Arezzo, naturalmente resta sempre aperta l'accusa di tentato omicidio, quindi adesso la parola passerà al tribunale in vista dell'udienza preliminare. Nasce il patto federativo, parliamo di politica tra le varie liste civiche presenti nei vari consigli comunali della provincia. Il coordinatore sarà Francesco Carbini di San Giovanni Valdarno con Marco Donati. E' partito subito un input diretto al presidente, al neopresidente della provincia, Alessandro Polcri. E' tutto con le breaking del pomeriggio, appuntamento alle prossime edizioni. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS